Presidente, soltanto per ricordare che ovviamente questa delibera è precedentemente passata in commissione urbanistica dove abbiamo espresso parere favorevole, ringrazio anche gli uffici che sono venuti in commissione a illustrarci dettagliatamente la proposta e a spiegarci come in seguito a questi ritrovamenti archeologici è stato necessario apportare delle modifiche non sostanziali alla zonizzazione interna del piano di recupero di Corviale. Quindi insomma non c'è molto da dire se non che prendere atto della cessione di queste aree per un importo come ha detto l'assessore di circa 750 mila euro e delle relative opere che verranno realizzate al di sopra delle stesse che verranno inserite in bilancio al momento della stipula della convenzione urbanistica. Grazie.